La città metropolitana di Firenze ha attivato 5 procedure di gara per realizzare il progetto di rigenerazione territoriale della tenuta di mondeggi, finanziato nell'ambito dei piani urbani integrati con i fondi del PNRR, che interessa il restauro di edifici eterogenei per caratteristiche e dimensioni e la creazione di invasi e sottoservizi. Dunque pubblicata la determina a contrarre per 5 procedure di gara per 5 interventi, al fine di garantire la più ampia partecipazione anche delle piccole e medie imprese qualificate per le diverse tipologie di lavorazioni e la conclusione dei lavori entro il 30 giugno 2026. Primo intervento, case coloniche di Cerreto e Rucciano, durata dei lavori 730 giorni consecutivi. Secondo, case coloniche di Conte Ranieri e Sollicciano, 720 giorni. Terzo, case coloniche di Pulizzano e Cuculia, 980 giorni. Quarto, villa di Mondeggi, giardino, cappella e casa del giardiniere per 973 giorni. Quinto, strade, invasi e sottoservizi per 980 giorni. Un grande obiettivo, spiega il sindaco della città metropolitana di Firenze, dare un'ardella a recuperare questa bellissima area dei schianti per consegnarla alla fruizione corale dei cittadini di tutto il territorio metropolitano. Secondo criteri di sostenibilità, miglioramento del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale della promozione dei servizi sociali e culturali e attività sportive e naturalmente di salvaguardia della sua vocazione agricola. I fondi per Mondeggi sono pari a poco più di 48 milioni di euro, di cui 44 milioni dal PNRR. Oltre 4 milioni per la progettazione definitiva ed esecutiva arrivano da fondi erogati dal Ministero dell'Interno di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze. Anticipate risorse proprie della città metropolitana per la realizzazione della fattibilità tecnica ed economica per un importo complessivo di 422 mila euro. La giudicazione dei lavori avverrà entro il 30 luglio 2023.